Si è spenta a Roma Clio Napolitano, moglie dell'ex presidente della Repubblica, dopo una lunga malattia. La first lady, riservata e lontana dai riflettori, è morta poco prima dal compimento dei suoi 90 anni e quasi un anno dopo la scomparsa del marito. Il legame tra Clio e Giorgio Napolitano è durato 64 anni, un'unione che la stessa Clio descriveva come un rapporto alla pari. Si conobbero a Napoli, ma fu a Roma che sbocciò l'amore. Giorgio ricordava con affetto gli inizi del loro corteggiamento, scherzando sul fatto che l'aveva presa per fame per le frequenti cene insieme al ristorante. La signora Clio ha sempre mantenuto un profilo basso durante i nove anni trascorsi al Quirinale, schivando cerimoniali e autoblu. L'ultima immagine pubblica della coppia risale al 14 gennaio 2015, giorno in cui Giorgio Napolitano lasciò la carica di presidente. Nonostante le formalità legate al ruolo, Clio preferiva la semplicità e non amava gli eccessi. Clio Napolitano, avvocato della Lega delle Cooperative fino al 1992, si trasferì a Roma da Chiaravalle, in provincia di Ancona, per svolgere la pratica legale. Nata da genitori comunisti perseguitati dal fascismo, si distinse per il suo impegno nella difesa dei braccianti agricoli. La coppia si sposò con Rito Civile a Roma e si trasferì a Napoli, per poi stabilirsi definitivamente nella capitale nel 1966, quando Giorgio fu chiamato alla direzione del Partito Comunista. Una coppia solida e discreta. Clio e Giorgio Napolitano hanno condiviso una vita semplice, lontano dai riflettori. Amavano trascorrere le vacanze in Val Pusteria e sull'isola di Stromboli, luoghi che rappresentavano per loro rifugi di tranquillità. Clio lascia due figli, Giovanni e Giulio, a il ricordo di una First Lady allergica agli onori, ma sempre al fianco del marito, in uno dei periodi più importanti della storia della Repubblica Italiana.